Ragazzi oggi vi propongo un nuovo format, un nuovo tipo di video quindi lasciate subito un bel like per supportare questa nuova idea, ditemi se vi è piaciuto qui sotto nei commenti e stavolta mi sono impegnato davvero, non come è successo l'altra volta che è arrivata gente a commentare dicendo eh no non te lo meriti perché non sei impegnato, no cazzo stavolta sono stato un pomeriggio intero a fare questo video quindi spero che vi possa piacere, io vi ringrazio di tutto il supporto che mi date e buona visione! Ciao a tutti ragazzi qui è Verat che vi parla, oggi sono finalmente tornato con un nuovo video, siamo in live come vedete su MW2 però oggi ho deciso che non registrerò un solo code, registrerò diversi code, ho intenzione di registrare per tipo due ore quindi il lavoro sarà abbastanza lungo di tagliare tutto, farò tipo un minuto e mezzo, due minuti per code quindi direi che ci troviamo subito quando comincio la partita che almeno non perdiamo tempo Wow che cazzo di qui che ho fatto così a caso totalmente Sono un genio, un genio del male sono Nooo peccato se c'era il quarto così era assurda Figa immaginatevi la qualfit così in FFA, non era sick proprio Nooo ho potuto far clip Best trick shooter EU mamma mia Si allunga la fila eh Ok i trick non vanno quindi sti cazzi non si faranno trick adesso passeremo a un altro code direi di andare su MW3 E poi passeremo a BO2 e infine a Ghost Ok siamo tornati finalmente Siamo su MW3 finalmente cioè io ho passato mezz'ora di Italia adesso Quindi ora si riparte per me Come vedete su MW3 non ho i livelli quindi sarà un casino cercare di far clip ma ci proveremo Mettiamo magari zona di lancio eh E non c'è la multi Tutu Però di qua si C'è la multi Il problema è che Vengo ferito da dietro mentre sto sparando Chissà da chi È un inferno sta partita Dio boia Quando cominciano a prendere le casse in modo compulsivo non riesci più a fare niente eh Wav 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 Vi merite l'essere Tocco Il cancro Tocco Coglioni Di puttana Di traia Cucu Tutti morti Connessine brutto ovviamente c'è la L11 in mano Connessine brutto Due Tre Mamma mia Mi hanno splittato Oh mio dio Poteva essere qualcosa di davvero sick questa clip Bella però dai ci sta L11 Prima clip di questo profilo per di più mi sa Quindi ragazzi si va alla grande No No Perché non mi ha dato la triple Che sfiga No Non c'era la multi Dio madonna No Cazzo Direi che per questo Coda è abbastanza Ci troviamo su Black Ops 2 ora E poi finiremo con Ghost Ok siamo tornati finalmente in live Siamo su Black Ops 2 come vedete Stand off TDM ovviamente No No Fanculo Che sfiga Guarda questo come vola Carlino Ehi là Questa è sfiga però eh Questa è proprio sfiga totale Questa partita è proprio sfigatissima Ovviamente c'è un fottuto cretino davanti a me E quel cretino si blocca Si ferma a pensare Alla vita Poi mentre sta davanti a me No Non ti dovevo mancare Non mi scusi Porca troia Porca troia Porca troia È uscito tutto Mamma mia Mi smitragliata Pesante Era quella tra le chat Vaffanculo la madonna Adesso mi riguarda la kick Non l'ho visto io Cosa Per favore Collatra Code split Più di troia Era collatra le chat Facevo con le chat Lì madonna No che sfiga Due colpi di shot Mai successo in vita mia Su bio 2 però Ok Se lo dici magari Lei non era con l'altra Eh però Quella è host Non se ne frega Adesso passiamo a ghost Quindi ci becchiamo là Addio Benvenuti su mbg Qui è my blog Gabriele E oggi siamo su ghost Siamo arrivati Ehm Sì ormai sta finendo la giornata Quindi devo un po' muovermi Abbiamo già trovato Partito in zona di lancio Strike Ho visto che i miei capelli Oggi sono Muy fashion Quindi Ehm Non so Non ho la voce Non ho la voce Per fare swash Però ok Cioè vabbè dai Grande membro della squadra Grandissimo Porco dio Che cazzo l'hanno fatto a fare Quel coso Pod feed E non ce la fa Ivonne Cucu Imagine Ah ma c'era il quarto Sono stranzo io Allora Come l'ho mancato Cioè praticamente Si è lasciato uccidere Questo Aveva capito Che non c'aveva speranze No Stavolta invece L'aveva capito Che mi potevo uccidere Diokane Ma buttato uno stranzo Che mi puttana Ok Quella che vale Cos Quad feed Molto molto Fade Non penso neanche Sia quad feed Tipo Quella di prima Di BO2 Potete Anche Docare tutto il giorno Tutti i giorni Ma non farete mai Una clip bella Se non sapete Destirvi bene Lo spot Poi certo Ci può essere La botta di culo Eh Oh mio Dio Ragazzi Oh mio Dio Che cazzo Ho mancato Era triple Flecio Ti insalto Era l'opener Del mio stage Era tutto Questa clip Mamma mia Era esagerata Dai la partita è finita 62 17 Spero che questo video Vi sia piaciuto Il nuovo format Lasciate un bel like Per questo nuovo tipo di video Ci ho messo tantissimo A lavorarci A registrarlo Ad editarlo E tutto Ho fatto tre clip Belle Due pulite E una molto faded Però Sono comunque tre clip Spero che comunque Tutto questo Vi sia piaciuto Io vi ringrazio Tutti i like Tutti i commenti Nell'ultimo video Vi abbiamo superato i 600 like Tantissimi ragazzi Vi ringrazio mille Vi ringrazio mille E ci becchiamo al prossimo video Bella Ciao